Noi abbiamo perso alcuni giorni perché trovare una sede a Messina è stato faticoso perché l'antipolitica è arrivata pure a dare delle difficoltà a chi deve affittare un appartamento per un partito. Abbiamo notato che c'era questa diffidenza, a un privato sì, a un partito no. No, abbiamo superato questa cosa, abbiamo dovuto bonificare, dipingere, ristrutturare questo appartamento. Ora è stata una fatica, può sembrare una stupidaggine ma abbiamo superato delle difficoltà di ordine materiale quindi siamo un po' in ritardo rispetto a questa cosa. Ci siamo riusciti e ora abbiamo un punto di partenza per poter lavorare, una sede di lavoro. Quindi il nostro lavoro è cominciato a lunedì, però nel frattempo abbiamo preso dei contatti o altri hanno preso dei contatti con noi, questo ci aiuta. L'interesse delle persone lo abbiamo toccato con mano. Ecco c'è un certo entusiasmo nei confronti di questa situazione nuova che stiamo creando per cui speriamo di fare un buon lavoro, siamo ottimisti.